Ciao a tutti, con questo video vediamo come si fa il tessuto jeans allora in questo caso lo vedremo con i pantaloni, con questi pinocchietti allora per fare il tessuto entrama jeans e ci sono due modi o lo facciamo interamente con i pantoni quindi possiamo usare un pantone celeste, un pantone blu scuro per oggi invece vedremo come si fa proprio la trama del tessuto useremo una penna Bic, che è l'ideale una penna Bic blu cominciamo facendo questo tipo di movimento con la penna facendo delle lighe trasversali e poi incrociandole con altre e poi andiamo a vedere come si fa proprio la trama del tessuto e poi andiamo a vedere come si fa proprio la trama del tessuto e poi andiamo a vedere come si fa proprio la trama del tessuto e poi andiamo a vedere come si fa proprio la trama del tessuto e poi andiamo a vedere come si fa proprio la trama del tessuto Grazie a tutti. 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 Ciao.